Master Pulse Pro è il modello intermedio della nuova gamma di headset targata Cooler Master. Questa versione introduce alcune interessanti novità rispetto al modello stereo rilasciato qualche mese addietro. Troviamo infatti un sistema di emulazione surround 7.1, una coppia di LED RGB posti sui padiglioni, un nuovo controller in linea ed una connettività di tipo USB, caratteristiche del tutto assenti sul modello base. La linea Master Pulse è caratterizzata da un design ricercato e materiali di ottima qualità. La struttura, di tipo circunmaurale, è realizzata in plastica e metallo e dotata di un sistema di regolazione a banda sospesa, in grado di adeguarsi automaticamente alla taglia dell'utilizzatore. La tecnologia Bass FX, introdotta da Cooler Master, consente di trasformare le Master Pulse da cuffie aperte a cuffie chiuse, rimuovendo semplicemente le coperture in metallo dei padiglioni, con tutto quello che ne consegue a livello di resa sonora. Le Master Pulse Pro vengono commercializzate nella sobria confezione di vendita pensata da Cooler Master appositamente per questa gamma. L'headset è saggiamente fissato, tramite delle fascette in plastica, in un resistente involucro che ne garantirà la piena protezione da polvere e graffi. All'interno della scatola non vi è altro che una guida rapida contenente una descrizione delle principali funzionalità delle cuffie. Anche quest'oggi il video è giunto al termine. Ringraziamo Cooler Master per l'invio del prodotto e vi invitiamo a leggere la recensione completa che trovate nel link in descrizione. L'appuntamento è per il prossimo video unboxing con il meglio delle periferiche gaming. Ovviamente sempre qui su Next Hardware. L'appuntamento è per il prossimo video.